Quindi le 30 milioni, anche se sono tanti... Presidente Gianfranco Basterebbe, cosa ci vuole per risolvere definitivamente il problema della carenza d'acqua, soprattutto nei mesi estivi? Potrei rispondere con una risposta secca, ci occorrono 30 milioni di euro. Sarebbe troppo facile, non voglio mettermi dietro a questo paravento. Le problematiche sono quelle che conosciamo. Noi come gestori gestiamo degli impianti vecchissimi, la stragrande maggioranza degli impianti primari sono stati realizzati dall'allora Cassa del Mezzogiorno. Hanno una età media di 50 anni, qualcuno ancora di più. Noi come ente di gestore stiamo facendo i salti mortali per mantenerli più efficienti possibili. Però fin dalla loro realizzazione era stata stimata che il tempo di durata di questi impianti doveva essere pari a 40 anni. Ne sono trascorsi 50, gli impianti sono sempre gli stessi e noi continuiamo ad avere queste problematiche. Di nuovo c'è che con le forze politiche, in modo particolare di Vasto, che è la città più colpita, anche se totalmente sono i 18 i comuni interessati che partono da comuni del Sancro fino ad arrivare all'Alto Vastese. La città di Vasto è quella in modo più colpita. Quindi col sindaco, questa mattina con un incontro con due consiglieri comunali appartenenti alla Lega, dopo aver discusso, ampliamento e approfondito una serie di problematiche, che la risoluzione è quella di trovare questi finanziamenti. Abbiamo programmato un incontro con il presidente dell'Aggiunta regionale per esporre queste argomentazioni e tutti insieme cerchiamo se è una cosa risolvibile dalla sola regione, benvenga. Se con la regione ci aiuta ad interferire verso il governo nazionale e quello europeo, l'importante è che troviamo da uno di questi enti le risorse necessarie per risolvere definitivamente questa problematica.